salve traders come va con un'altra volta con voi eric munozzi lion bull academy finalmente dopo un mese e mezzo senza computer dovuto a che come sapete sicuramente tutti il mio macbook si era rotto e ho voluto comprarne un altro attraverso di amazon niente non è arrivato dopo un mese e al finale mi sono fatto ritornare i soldi dietro di amato e sono dato al al supermercato più vicino dove potessero comprare computer nuovi mi sono preso al finale un macbook completamente nuovo è stata una spesa abbastanza grande però almeno così già potremo cominciare un'altra volta a fare sti benedetti video va bene volevo dire anche che abbiamo microfono nuovo che è stato un regalo di compleanno e così ci avremo anche spero audio di miglior qualità perciò vi dico mi serve ancora un giorno per poter finire di mettere tutte le applicazioni che mi servono per poter utilizzare il computer al cento per cento le applicazioni per fare gli analisi le applicazioni per poter programmare come sapete la nostra piattaforma e avere un po più tutte le password tutti i dati messi già in ordine e poter così cominciare però un giornatino in più e già potremo cominciare come sempre fare i nostri video qua nel nostro canale e il macbook che avevo prima mi è durato esattamente dieci anni era un macbook del 2012 il prezzo è quando avevo comprato era abbastanza caro più di 2000 2000 euro e mi è durato esattamente dieci anni perciò se andiamo a vedere l'investimento che ho fatto e la durata del tempo è stato un investimento veramente fatto bene perché mi è durato tantissimo e mi ha aiutato tantissimo quel computer spero che questo nuovo computer mi faccia lo stesso lavoro e mi duri altri dieci anni dai molto presto già cominciamo io penso già domani potremmo cominciare a fare i video normalmente dentro la nostro canale di youtube dentro il nostro canale youtube e il lion bull academy dai è stato piacere parlare con voi e ci vediamo molto presto ciao ragazzi